Sono atti, steve utile nella presentazione di questa bellissima Renault Clio allestimento Intense, 63.000 km, immatricolata a marzo 2019, diesel 90 CV vediamo il frontale classico Renault, già vediamo le prime cromature col faro che si estende sul lato, bellissimo, che dà lunghezza e profondità all'auto cerchio in lega da 16 pollici, diamantato vediamo le cromature sia sui finestrini che anche lato minigonna lo specchietto nero, un tocco di classe classico Renault che vada tantissimo all'estetica nel retro dell'auto vediamo il sensore di parcheggio e anche il retrocambio con una grandissima cromatura sul portellone dopo i primi ritori, nei sedili anteriori vediamo un sedile tessuto misto pelle cambio e freno di stazionamento manuale un bellissimo grandissimo schermo con presa AUX e USB con connessione Apple CarPlay e Android Auto comoda la guida al volante, molto sportiva che dire, questa Clio ha proprio tutto scopri questo Renault Clio e tutte le nostre altre fette sul nostro sito ExoLaptics Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!